Ciao ragazzoli belli, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e vi do il benvenuto in un video di Clash Heroes Un video di Clash Heroes che mi avete richiesto in molti, l'ultimo è andato molto bene Sapete che i video news sono i video che io preferisco perché vi tengo aggiornati, mi tengo aggiornato E tutti cerchiamo di captare qualcosa, il video precedente lo trovate qua nelle schede cliccabili con tutta la playlist dei video che ho attualmente già fatto di Clash Heroes Sono dei video molto molto interessanti quindi vi invito particolarmente coloro che sono interessati al nuovo game di andare a vederli Vi avviso che arriveranno dei nuovi contenuti di Clash Heroes nel caso voi mi fate vedere un po' di supporto qua sotto Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete con i vostri amici questo video Mi trovate anche su Instagram e TikTok, tutte le informazioni qua sotto in descrizione Vi potete abbonare al canale Twitch gratuitamente con Amazon Prime oppure qua con 99 centesimi per ottenere dei vantaggi esclusivi Insomma cercate di fare un po' tutto quello che vi interessa Vi dico soltanto che tutte le informazioni verranno anche ripetute oggi pomeriggi live alle ore 17.30 Quindi passateci mi raccomando Eccoci qua nel nostro posto preferito Si parla ragazzi di quello che ormai tutti conoscete Ossia Twitter, un'applicazione che io utilizzo e che reputo molto utile Nell'usufruire delle informazioni dei vari giochi E oggi invece andiamo a vedere non più Clash Mini Che è il gioco attualmente più in voga, quello di cui si sta parlando di più Quello di cui un po' tutti stanno aspettando notizie Perché ragazzoli belli, oltre a tutte le cose che ci sono da sapere riguardo a Clash Royale Che ragazzi è un gioco che sta prendendo molto hype grazie al nuovo update che porteremo Non vi preoccupate Riguardo al nuovo aggiornamento di Clash Mini Si parlano di cose particolari che però voglio andare a trattare poi in un altro video Che uscirà probabilmente questa settimana Oggi come vi avevo avvisato e come vi avevo anticipato si parla di Clash Heroes Non vedo l'ora di andare a trattare tutti gli argomenti con voi Perché il game non ha subito aggiornamenti sul profilo Twitter dal lontanissimo 15 febbraio 2022 Che in realtà non è neanche un aggiornamento perché l'ultimo aggiornamento ufficiale risale al 5 novembre 2021 Parliamo quindi di un anno fa Magari il 5 novembre avremo notizie Questo è quello di cui si vocifera Ma andremo a trattare meglio in tutto il video Quindi guardatelo fino alla fine Partiamo dall'inizio Clash Heroes per chi non lo conoscesse è il gioco in beta sviluppato dalla Supercell Annunciato nel lontano aprile del 2021 Un game che ha creato molto scalpore sin dall'inizio Che aveva stupito un po' tutti Era quello con cui c'era più gente in hype Ed è l'ultima notizia che abbiamo da Supercell I tre giochi annunciati sono stati un flop In quanto Clash Heroes non è mai stato lanciato in alfa Clash Mini è quello che è più avanzato E però ha bisogno secondo me ancora di qualche aggiornamento Prima di avere effettivamente un launch ufficiale Mentre Clash Quest è stato già lanciato Ha fatto il suo ciclo di vita ed è stato anche già eliminato purtroppo Clash Heroes invece ha avuto sempre del potenziale per quanto mi riguarda Ed è sempre stato il gioco che qua sul canale è quello che è andato meglio Tranne Clash Mini in quel piccolo lasso di tempo nel quale è esploso E che abbiamo ottenuto un sacco di visualizzazioni Oggi però Ragazzi su livelli dobbiamo ripercorrere un po' tutta la storia Perché Clash Heroes fu lanciato nel 2000 Nell'aprile del 2021 come avete già scritto C'è scritto Quindi sostanzialmente vedete che abbiamo ottenuto 4000 4000 likes Un sacco di supporto Un sacco di persone che erano tutte ai padre Perché effettivamente era un progetto che Supercell non lanciava dal 2016 Ragazzi Supercell è veramente ferma Infatti ha bisogno di lanciare nuovi giochi E secondo me sono in sviluppo È vero che Clash Royale sta ottenendo un sacco di supporto Adesso con un nuovo aggiornamento Ma vediamo in futuro Questo era il vecchio logo di Clash Heroes Per chi non lo sapesse aveva un vecchio Un vecchio logo Un logo che è stato cambiato in realtà recentemente Parliamo di uno degli ultimi aggiornamenti Che aveva creato abbastanza hype Perché fu lanciato questa immagina Con scritto The Calm Before The Sandstorm E molta gente era partita in hype Dicendo Oh ma ragazzi arriverà il nuovo aggiornamento di qua di là di là Avevano messo un sacco di immagini carine Ragazzi poi avevano immagini veramente fatte bene Sembrava un gioco con molto supporto dietro Per poi Essere pubblicati Qualche effettivamente early gameplay footage Quindi qualche spoiler proprio del gameplay E purtroppo poi Fu lanciato Clash Mini E da lì Non abbiamo più notizie Se non che Nell'ultima novità Che avevano mandato C'era scritto che Avevano avuto delle notizie Riguardo a Clash Heroes E che forse ci sarebbe stata nel 2022 Una fase di alpha Una fase di alpha Della quale non sappiamo ancora niente Ma mi posso dire che secondo me Potrebbe essere che non arriverà proprio Un game che potrebbe essere morto E che loro stanno aspettando soltanto Di dire che non ha funzionato O l'hanno reworkato tutto O l'hanno eliminato Non lo so Purtroppo Non si hanno notizie di questo genere Io spero vivamente Vi ricordo che il community manager Di Clash Heroes E Vlad Lo stesso che sta seguendo Il gioco Clash Mini Di conseguenza È per questo che sta andando molto A rilento lo sviluppo di Clash Heroes Si stanno più concentrando su Clash Mini Che potrebbe arrivare forse un global launch Ma Sono cose che bisogna andare a trattare Con calma Con pazienza E io non vedo l'ora di sapere La verità Purtroppo Clash Heroes Quindi è in una fase di stallo Una fase di stallo Che continua da anni Cioè continua da mesi Quasi un anno E che secondo me Si porterà nel tempo Fino ad un'eliminazione Questa è la fase In cui sono un po' più pessimista A meno che Ragazzi Il 5 novembre Non venga annunciato qualcosa Per l'anno Dall'ultima notizia Questa è l'ultima cosa Che mi può Far appendere A delle speranze Di conseguenza ci vediamo Anche con un secondo episodio Però voi dovete lasciare un sacco di like Perché se no non ve lo porto Mi raccomando Il game non è cambiato niente Non hanno aggiunto niente Avevano messo Questa location Wherever the best loot drops Ed è quella Un sacco di tempo Cosa dobbiamo fare? Niente Perché il game Ha dei problemi Al fondo O hanno cambiato tutto Come vi ho detto O ragazzi Siamo belli Che fanati Il video però termina qua Io spero che vi siate rivettiti E spero che il video vi sia piaciuto Come al solito vi ricordo Lascia like Iscriviti al canale Attiva la campanella Se non vuoi perderti Altri video di questo genere Io come al solito Ti invito Vivamente A seguire i miei canali social Perché lì vi aggiorno Sulle live Come vi ho annunciato Oggi pomeriggio Ore 17.30 Sarò in live Quindi non potete perdervi Ragazzi La live di oggi pomeriggio Alle ore 17.30 Se avete delle domande Dei commenti Dei video specifici Che vorreste vedere Sui nuovi giochi Sulle news Su qualcosa Trovate il box commenti qua sotto Avete l'opportunità di abbonarvi Come vi ho detto all'inizio video Ve lo ripeto Gratis con Amazon Prime Su Twitch Oppure qua 99 centesimi Vedo che un sacco di voi Si stanno abbonando Off live E io vi mando Il commentino Con scritto Ragazzi Mandatemi la richiesta Su Instagram Quindi coloro che si abbonano Mandatemi lo screen Su Instagram Con il vostro ID Ciao belli miei Noi ci vediamo domani Alle 14 Con un nuovo video Oggi pomeriggio 10.7.30 In live Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli